salve a tutti ragazzi io sono chef gabriele del canale youtube in cui c'è me la chef gabriele e allora per l'ultimo voglio dire che non posso urlare quindi aspetta dai braccio perché sono alle 22 e mezza non sono nella sedia centrale ma nella mia bella casuccia quindi alle 10 e mezza di sera urlare non fumo il caos e che altro dirvi scusate se ogni tanto faccio la mia compara cerchi come si può vedere non c'è il cameraman qui mi sto facendo un video tipo selfie con la telecamera si quella che usiamo per i nostri video classici e che altro dire si non sono morto non sono vivo perdono volevo dire non sono morto scusate non mi fa male il braccio sta a tre ore si affanvivo questa ventesima volta che provo come si può ben capire non ho il microfono e neanche questo video non vera editato quindi così lo carico subito su youtube magari domani mattina verso le 5 lo carico col programmato tanto no verso le 3 così lo carico e lo farò uscire alle 20 con la col carimento programmato comunque ragazzi no non sono morto il titolo di oggi è un nuovo stop video vi voglio spiegare comunque che siamo al ora ve lo dico 4 a 10 maggio sono dopo due settimane che non carico un video sul canale semplicemente perché purtroppo sto avendo dei problemi non posso andare all'euro registrare in sede e quindi non potendo andare all'euro a registrare capite bene che non posso andare in culonia a registrare lo so vi sto facendo svenire ho fatto la mia posto qui e vado non potendo andare all'euro non ho potuto arrivare video comunque verso fin del mese ritornerò all'euro a fare nuovi video quindi dal primo giugno 2015 usciranno millioni di video comunque non vi sappiamo ancora dire se ne caricheremo diciamo dal primo giugno al posto mio e ne carico uno due cioè faccio tre settimane o tutta la settimana che ne carico lì registro questo ancora non lo so dire però vi posso dire che primo giugno nuovi video detto questo grazie per mi seguire vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina facebook in cucina chef gabrielli a iscrivermi al mio valore youtube e google plus in cucina chef gabrielli a seguirmi su twitter in cucina chef g e a seguirmi su twitter in cucina chef g e a seguirmi con l'astag chef risponde su ask.fm e logicamente seguirmi anche su ask in cucina chef gabriele e ogni tanto accedete sul mio blog della piattaforma giallo zafferano in cucina chef gabriele vi ricordo non ho il microfono solo 22 metri quindi non posso urlare questo video non lo monta perché sono deficiente a montarlo lo rendo più pesante detto questo primo giugno 2015 ore non lo so dal primo giugno nuovi video grazie a tutti